Certo, però quando era un po' meno... Mi scusi signora, ci canta la canzone Il Camino? Certo. Non finisco, me la ricordo, aspetta, com'è che faceva? Bomba! Sbazzaccavi! Boh, me la ricordo, adesso... Scusi, stiamo investigando, mi dispiace. Ma è stata? E' mai entrata in casa della vittima? No, io devo raccontarla. Patrick! Com'era è mai stata? No, ascolta, io mi scelgo i clienti. E allora non hai l'idea, e allora non hai l'idea. Meno male. Usa protezioni. Ma cosa te ne fai? Che prende la farmacia di Mileniano? Lo passi da casa mia, te lo dico. C'è la farmacia? Lo vengo? No. E allora no. Tieni. E l'azienda che la dividessi tua parecchiera? L'investigatore privato fa casino. Non lo so a me cosa interessa, io sto a casa mia bella tranquilla. Ma chi abita? Ci puoi dire l'indirizzo? Di fianco alla vittima, se sono vicina di casa. E non lo sapevamo questo. Ah, scusa, mi sono... E mi dica l'indirizzo lo stesso. Questa qua è la scelta. Era invidiosa del... Era invidiosa della vittima. Tu vedi che una spalla per... Le mette un' per stanza dopo gira? Ma cosa mi interessa? Ma che ha se sparata la domanda. Io quando mi mette un mio lavoro, ho mica bisogno di altrissimi. Cosa, ne mette uno per stanza dopo gira? Succede anche questo. Era invidiosa della vittima? O hai ticket come il macellaio. Scusate, ma tanto io ho tutto quello che aveva lei. I ticket, avanti il prossimo. No, non aveva la farmacia. Ma non aveva la droga. Non aveva la droga della farmacia. Che droga. Hai ticket da macellaio. Ma lei insegna questo lavoro a qualche giovane inesperta? No, l'arte. L'arte mantirà da qua. O ce l'ha o ce l'ha? Scusate, ma se avete altre domande... È divertente.